In Italia è questo che manca, considerare il libro, la lettura e più in generale la cultura un fattore fondamentale della nostra vita collettiva, persino questo è diventato strumento di divisione politica, mentre non dovrebbe essere così la cultura, la preparazione dovrebbe stare a cuore a tutti, a meno che qualcuno non tema dei cittadini colti, preparati e quindi consapevoli. Io sono Giuseppe La Terza e questo è Radar, un podcast degli editori La Terza. Radar è una serie di conversazioni settimanali sulle questioni essenziali del nostro tempo, ogni volta in compagnia di un esperto per cercare di andare in profondità a rimettere ordine e orientarsi. I dati del mercato editoriale nei primi quattro mesi del 22 sono piuttosto negativi, secondo i dati diffusi al Salone del Libro dell'Associazione Editori, la cosiddetta varia, cioè i romanzi, dei saggi venduti nelle librerie fisiche e online, è inflazione di 3,7 punti in percentuale a valore e 2,5 nel numero di copie, anche se si sottolinea che comunque è un numero di copie maggiore di quelle che erano vendute invece nel 2019, cioè prima del Covid. L'anno scorso invece nel primo quadrimestre ci sono state vendite in crescita, nonostante la pandemia, nonostante la situazione di difficoltà di tutti gli altri comparti culturali. Si calcola che nel bienio addirittura il mercato sia cresciuto del 16%, cosa abbastanza straordinaria. Per capire questo quadro complesso, caratterizzato anche da scarti molto forti tra lettori forti, lettori deboli, tra il nord e sud, tra i giovani e gli adulti, abbiamo chiesto una riflessione a Marino Sinibaldi che è attualmente presidente del Centro per il Libro e la Promozione della Lettura, istituito nel 2007 al Ministero della Cultura, ma che arriva a questo ruolo dopo una vita passata in mezzo ai libri, avendo diretto per molti anni il canale culturale della RAI, cioè Radio 3, all'interno del quale poi ha creato insieme a un gruppo di collaboratori trasmissioni molto rilevanti, importanti, lunga storia come Fahrenheit, dedicata ai libri. Ecco, vorremmo cominciare proprio a chiedere a Marino Sinibaldi un'opinione su quello che è successo in questi due anni, cioè sulla situazione come si è evoluta, che cosa è successo, cosa ha determinato questa tenuta del libro, se è stata una tenuta, alcuni dicono che in realtà i lettori non sono aumentati e hanno letto di più chi già leggeva, quindi diciamo è un quadro con luce ombie. Buongiorno Marino. Grazie, grazie anche già delle occasioni di riflessione che hai offerto con questa prima sintesi. Che commenterei così? Naturalmente siamo in un'epoca di grandissimi mutamenti, di grandissimi shock, quando parliamo di lettori parliamo di esseri umani. che in questi anni sono stati attraversati da traumi profondissimi, la crisi economica, la crisi ecologica, la pandemia, la guerra, la transizione digitale e quindi è evidente che ci sono mutamenti improvvisi, scarti come dici tu, contraddizioni, oscillazioni anche violente. La stessa cosa accade in molti altri campi della nostra vita pubblica, quindi accade anche nel mercato dell'editoria. Forse bisognerebbe aspettare, guardare le cose in una prospettiva più lunga e forse in una prospettiva già più lunga dei dati dell'ultimo bimestre o del prossimo trimestre, possiamo dire che sì, il libro ha tenuto come attività e come mercato, come attività economica e come attività individuale. Ha tenuto soprattutto perché i lettori forti hanno letto ancora di più di fronte forse a situazioni come il tempo libero offerto dal lockdown da un lato, l'altro alla sollecitazione violenta di cose che accadevano e che ci spingono a cercare evasione e riflessione, i lettori medi hanno letto di più, poi molti lettori medi hanno smesso di leggere perché, ed è l'ultimo dato che vorrei sottoporti in questa prima risposta, nel frattempo sono cambiate moltissimo le abitudini, i comportamenti relativi al rapporto con i mass media, con le nuove piattaforme di narrazione, quindi qualcosa che è direttamente competitivo con i libri. Siamo dentro una tempesta, una tempesta morale, sociale, geopolitica e dunque anche culturale e dunque anche editoriale. Sì, siamo certamente dentro una situazione di grande cambiamento e di trasformazione, una tempesta come tu dici, ci torniamo subito, però prima vorrei farti approfondire una cosa che tu hai detto all'inizio, cioè che bisogna guardare i dati in una prospettiva più lunga. Chi ci ha sempre invitato a farlo in passato è stato Tullio De Mauro, un grande uomo di cultura, un linguista, una persona che si è occupata molto di scuola e di lettura, che nell'intervista sulla cultura degli italiani con Francesco Urbani ci ricordava il dato dell'analfabetismo che si è riallineato sui valori europei molto tardi e rimaneva forte nel cosiddetto analfabetismo di ritorno. De Mauro ricordava che nelle indagini risultava per esempio che due su tre italiani non è in grado di restituire il senso di un articolo della Costituzione, quindi una diminuzione per così dire anche di partecipazione civile. I dati sulla lettura in Italia rimangono molto bassi rispetto alle medie europee, soprattutto dei paesi del nord Europa. I lettori a fatica raggiungono la metà, ci arrivano mettendo dentro i cosiddetti lettori morbidi, cioè i lettori che leggono anche le guide, i libri di cucina oltre che i manuali. Questa situazione, come è cambiata in seguito al Covid, è cambiata e in particolare cosa dobbiamo fare, quali sono le azioni necessarie per contrastare questa carenza di lungo periodo? I dati generali e i dati di lungo periodo dunque rimangono negativi, non solo dal punto di vista formale con le cifre, ma anche da quel punto di vista sostanziale che sottolineavi tu appoggiandoti sulle parole memorabili di Tulio De Mauro, memorabili e a me ancora attuali. Faccio notare che in tutto il dibattito sul Covid e ora anche nel dibattito sulla guerra in Ucraina c'è una evidente carenza di cultura, di conoscenza, di padroneggiare i dati, i dati dei contagi, i dati delle guarigioni o i dati dell'invasione. C'è sicuramente pregiudizi ideologici che alterano la percezione dei fatti, però c'è anche una incapacità di disporre dei fatti, di conoscerli per esempio e conoscerli si fa leggendo, solo ricorrendo a dei libri, delle cose che più in profondità raccontano eventi come per esempio quelli che accadono al confine dell'Europa, nella parte orientale dell'Europa. Quindi questa carenza di Tulio De Mauro di lungo periodo si vede quando emergono delle emergenze e avremo bisogno tra le tante risorse anche di quella forma di cultura che consente di comprendere e giudicare meglio cosa accade. Cosa fare? Naturalmente è molto complicato, bisogna agire su quelle linee di diseguaglianza a cui accennavi tu, noi abbiamo dei dati di lettura che sono a livello europeo in un terzo o un quarto d'Italia, dobbiamo intervenire di più forse nelle zone dove questi dati sono invece negativi. Bisogna usare le due grandi e ancora canali di comunicazione che restano, la scuola e i mass media, i vecchi e nuovi media, social media, bisogna lavorare lì. Bisogna anche però capire dove sta la lettura, perché questa è un'altra frontiera che si è aperta in questi mesi, in questi anni di fortissima esperienza digitale, in cui probabilmente si è letto anche al di fuori dei supporti tradizionali, libri e giornali, il boom per esempio dei giornali online o dei siti che danno notizie online, l'evitente insomma la moltiplicazione delle relazioni social di ciascuno di noi, fanno sì che cultura e informazione passino anche da altri canali, questo è un altro compito che dobbiamo porci, capire come in quei canali passa comunque un elemento di alfabetizzazione e di informazione, di conoscenza, di emozione, capire come passa lì e magari anche lavorare lì, perché anche in quei nuovi ambienti prevalga la qualità, quella che nella vita dei libri abbiamo sempre cercato di difendere. Sì, uno spunto molto interessante questo che tu ci dai rispetto al cambiamento anche in corso su internet, sulla rete, ne parla ad esempio Gino Roncaglia che è un grande esperto nell'ultimo suo libro che si chiama L'età della frammentazione, che è un sottotitolo esplicito, Cultura del libro e scuola digitale, facendoci notare come il panorama è in cambiamento su internet nella scuola, nell'utilizzo che la scuola può fare di internet. Scuola, quindi internet e poi naturalmente le biblioteche, ecco su questo abbiamo chiesto un parere a Giovanni Solimine che è docente di biblioteconomia all'Università di Roma, è presidente del Premio Strega e per la terza ha scritto vari libri sulle biblioteche, la biblioteca Scenari, Culture e Pratiche di Servizio, l'Italia che legge senza sapere il costo dell'ignoranza in Italia sulla lettura e l'ultimo intitolato la cultura orizzontale con Giorgio Zanchini. Abbiamo chiesto a Giovanni di commentare in particolare il recente rapporto dell'Istat sul benessere degli italiani che ha messo in luce dati molto problematici sul calo della frequenza delle biblioteche durante la pandemia. Ascoltiamolo. In aprile l'Istat ha pubblicato il rapporto sul benessere equo e sostenibile che descrive la qualità della vita degli italiani. L'edizione di quest'anno era particolarmente attesa perché ci consente di comprendere quanto gravi siano le lacerazioni prodotte dalla pandemia. Per quanto riguarda istruzione, cultura e lettura emergono tanti motivi di preoccupazione. Il dato che colpisce di più riguarda la partecipazione culturale fuori casa che tra il 19 e il 20 era già passato dal 35 al 30% e che nel 21 è addirittura crollato all'8,3%. Rispetto alle cose di cui mi occupo più da vicino, noto che cala di qualche punto l'indicatore della lettura e trovo molto preoccupante il fatto che in questi due anni il numero dei frequentatori delle biblioteche si è dimezzato. Nel 21 soltanto il 7,4% delle persone di tre anni e più si sono recate in biblioteca, confermando il calo che era iniziato già nel 2020, passando dal 15 al 12%. Potremmo cavarcela naturalmente con una spiegazione facile facile. È tutta colpa della pandemia e delle chiusure che ne sono derivate. Ma non basta, perché non siamo all'interno di una parentesi che prima o poi si chiuderà. Innanzitutto dobbiamo riflettere sul fatto che nel 21, quando ci sono state parziali riaperture, le cose sono andate molto peggio che nel 20, quando per mesi era stato tutto chiuso. E cosa ancora più preoccupante, che sono i giovani ad essere venuti meno, molto di più degli adulti. Cos'è accaduto? Nel 21 le persone, e i giovani in particolare, hanno risentito più drammaticamente del protrarsi della crisi sanitaria. Non è solo cambiata la fruizione culturale. Tutti gli indicatori di partecipazione sociale sono calati. A giovani sono stati sottratti due anni di fisicità nelle relazioni con i coetanei, a scuola, i luoghi di ritrovo, la pratica sportiva. Peggiorano tutti i dati sul benessere psicologico e sul livello di soddisfazione per la propria vita. Lo sfilacciamento delle relazioni, il rintanarsi in casa, chiusi in una bolla che abbiamo costruito attorno a noi, al cui interno c'è spazio soltanto per la serie tv, lo streaming, social network. Questo è l'ambiente quotidiano in cui ci si adagia. Quindi non è solo un problema di biblioteca o di partecipazione culturale e in un certo senso non è neppure un problema di disagio giovanile, o almeno non è solo questo. Siamo di fronte a una ferita profonda, difficile da ricucire. Si tratta di questioni generali che dovrebbero stimolare interventi di sistema e non settoriali. Ecco, le riflessioni di Solimine sono abbastanza preoccupanti, soprattutto rispetto alla partecipazione alle attività culturali da parte dei giovani. Ecco, che ne dici dal tuo osservatorio? Come leggi i comportamenti dei giovani sulla lettura, ma in generale sui consumi culturali? Qui si tratta di quanto di quello che è accaduto in questi anni sia irreversibile, diventi una nuova abitudine, una nuova normalità e quanto invece possa cambiare, sia dovuto a delle condizioni di emergenza e di eccezionalità. Il tema della partecipazione, che naturalmente è cruciale per la vita politica del Paese ed è collegato all'esperienza della lettura, che per me è sempre anche una forma di partecipazione, di arricchimento di sé, di preparazione anche all'incontro col mondo. Col tema della partecipazione giovani è molto significativo, i dati negativi che abbiamo sono senz'altro il frutto di un trauma che si è prodotto durante la pandemia e l'isolamento che dobbiamo assolutamente combattere. Ecco, qui c'è poco da dire, bisogna riportare la socialità nella nostra vita, soprattutto nella vita dei giovani, come un elemento fondamentale del rapporto col mondo. Se si perde nell'età della formazione potrebbe generare l'illusione che si possa vivere senza questa relazione e questa socialità, questa partecipazione. Noi tra l'altro in campo della cultura, nel campo dell'attività anche del Centro per il Libro, ma nel campo delle attività di molte istituzioni, tra le quali la tua, Giuseppe, abbiamo questa esperienza in Italia molto diffusa e molto feconda, dei festival, delle manifestazioni pubbliche, abbiamo appunto dei dati negativi sulla lettura e sul rapporto, diciamo così, individuale sul libro rispetto ad altri paesi, ma abbiamo dei dati di eccezionale invece ricchezza per quanto riguarda le forme pubbliche, le manifestazioni pubbliche in cui la lettura e i libri sono protagonisti. Ecco, quella è una cosa che forse non perso senso, ma insomma mi sembrava potesse rischiare la ripetitività un po' scontata prima della pandemia, adesso queste occasioni per esempio diventano un momento fondamentale di questa riaffermazione di socialità e per quanto riguarda i ragazzi che hanno vissuto questi anni nel lockdown, l'affermazione della socialità, la dimostrazione proprio nel senso più letterale della parola di cos'è uno spazio pubblico, di cosa possa essere condividere in pubblico alcune passioni come la lettura, noi ci prepariamo proprio in questi giorni all'estate che è la stagione primavera, l'estate è l'autunno la stagione in cui in Italia si svolgono questi festival, quest'anno li vivremo credo in un modo particolare, non solo come un'ottima occasione di fare cultura, ma anche una grande occasione di tornare a quell'elemento condiviso, socializzato e partecipato che evidentemente rischia la crisi. Sì, hai sottolineato un aspetto fondamentale, cioè che la lettura può essere un grande strumento di partecipazione in socialità, forse prima che iniziasse il fenomeno dei festival, credo il Festival di Mantova è iniziato negli anni 90, è stato il primo grande festival italiano, si pensava che la cultura come partecipazione fosse, non so, un concerto rock, uno spettacolo teatrale, difficilmente ci potesse essere partecipazione e socialità intorno alla lettura che era concepita come un atto essenzialmente individuale, anzi che richiedeva silenzio, concentrazione. Poi è arrivato il fenomeno dei festival che, come tu hai rimarcato, ha avuto uno straordinario successo, ci sono anche all'estero, ma da noi, forse per come sono fatte le nostre città, si è sviluppato soprattutto in città di media dimensioni, ha visto intorno alla lettura, ai libri, a delle conversazioni che avevano spesso rapporto appunto con i libri, una grandissima partecipazione anche di giovani. Io ricordo uno dei nostri autori più popolari, Zygmunt Bauman, ogni volta che andavo in giro con lui mi colpiva il numero di ragazzini, cioè quindicenni, sedicenni, che gli si avvicinavano, volevano un autografo al suo libro, eccetera. Partecipazione è una parola importante che, come dire, è stata la base della nascita in Puglia, oltre vent'anni fa, anzi esattamente vent'anni fa, di un'associazione chiamata Presidi del Libro, che riunisce più di 60 gruppi di lettori disseminati in tutta la regione, finanziata, anche sostenuta la regione, e nel 2004, lo ricorderai perché sei stato tra i protagonisti, l'associazione organizzò a Bari il primo forum del libro, che per la prima volta riuniva tutti i protagonisti del mondo del libro, cioè sia i librai, sia gli editori, ma anche i bibliotecari, gli insegnanti, le associazioni, gli esponenti dei premi letterari, e da quella esperienza è nato il forum del libro, che si è impegnato in tante battaglie, l'ultima delle quali, la ricordo, sulle biblioteche scolastiche, sostenendo che è lì che nasce l'abitudine della lettura, e che in Italia il sistema di biblioteche scolastiche è molto carente rispetto ad altri paesi, il ministro Bianchi si è impegnato a creare un ufficio su questo, e la battaglia del forum poi è stata più generale per l'approvazione di una legge sul libro, più generale, Franceschini ha ripetuto che è sua intenzione farla, ispirandosi anche a modelli degli altri paesi, è stato fatto, molto devo dire, anche in particolare da Franceschini negli ultimi anni, ma rimane una situazione ancora di squilibrio nell'investimento in risorse pubbliche per la lettura, ecco, anche qui, oggi che tu sei a capo presidente del CEPEL, cosa pensi, quali pensi che siano le linee direttrici di un intervento pubblico, che favorisca anche appunto la partecipazione e la socialità intorno alla lettura? Degli esempi positivi, quello pugliese è sicuramente più amoroso per la vivacità dei presidi del libro, sono tornato da poco da Taranto, dove abbiamo effettuato l'edizione del premio 2022, per fortuna in presenza del premio dedicato a Alessandro Leogrande, che è un premio bellissimo e che mette in campo tutti i presidi del libro, che partecipano appunto alla scelta dei libri, alla nomina del vincitore, è una realtà appunto singolare, perché come sai i tassi di lettura in Puglia sono, ahimè, tra i più bassi d'Italia, eppure la vitalità culturale è tra le più alte. Ecco, questa è una contraddizione sulla quale bisognerebbe ragionare, non arrendersi ad essa, perché potremmo accontentarci delle magnifiche, dei magnifici festi che ci sono in Puglia, di Auri di Trani, di Conversano, ora c'è il lungomare di Libia, Bari e chissà quanti ne dimentico. Non possiamo accontentarci di questo, perché questa dimensione, che è pure importante, rischia di trasformarsi in qualcosa di spettacolare e di effimero, mentre la cultura nasce, qualunque forma di cultura, da una dimensione, un tempo anche diverso, che va sempre coltivato. Il problema poi è la disomogeneità, c'è stato per cui delle politiche nazionali, che pure ci sono, riescono a incidere poco su queste differenze, perché riescono a incidere poco sulle zone di arretratezza, che non sono solo geografiche, anche se in Italia c'è questa specificità del mezzogiorno che risalta, ahimè, negativamente per molti indicatori. Io penso che una delle cose più importanti in questo momento sarebbe ascoltare un po' quello che accade, anche un po' i comportamenti nuovi che nasceranno, se nasceranno dopo la pandemia, intervenire lì, perché con i vecchi modelli che io non rinnego e che continueremo a usare, i modelli per cui finanziamo, con i bandi del CEP e del Centro per Libra e Lettura, molte manifestazioni di lettura ad altavoce, i festival, le iniziative che nascono nelle scuole, non le biblioteche scolastiche, perché come sai lì la competenza del Ministero dell'Istruzione, ma stiamo cercando di contribuire dal nostro punto di vista, perché questo dibattito è molto importante sulle biblioteche scolastiche di Nasca. Ecco, per esempio lì c'è un segnale, non vorrei sembrare troppo idealistico, che mi sembra importante, che è quello che tu, a chi entra in una scuola, tra le tante offerte che fai, ora poi si chiama proprio così, offerta formativa, offri i libri. C'è addirittura in discussione una misura collegata alla legge sul libro, alle nuove misure che stiamo mettendo in atto, per cui a chiunque compie 5-6 anni viene dato un buono per acquistare libri. Sono gesti molto importanti dal punto di vista economico, abbiamo visto quanto l'App 18 aiuti il mercato dei libri, aiuti in particolare proprio le librerie, che sono la parte più fragile di questa rete della lettura. Quindi darlo ai bambini di 5-6 anni come una specie di ingresso nella vita civile, a me sembra, oltre che un gesto di valore economico, un grande atto simbolico. Ecco, in Italia c'è questo che manca. Considerare il libro, la lettura e più in generale la cultura, un fattore fondamentale della nostra vita collettiva. Persino questo è diventato strumento di divisione politica, mentre non dovrebbe essere così. La preparazione dovrebbe stare a cuore a tutti, a meno che qualcuno non tema dei cittadini preparati, quindi colti preparati e quindi consapevoli. Sì, hai toccato anche qui un tema decisivo, cioè quello degli squilibri, delle diseguaglianze che si snodono intorno alla lettura. Uno di questi, l'avevi citato prima, è proprio quello tra il nord e il sud. I tassi di lettura del nord, la parte del nord, sono comparabili a quelli del medio europeo, ma anche di più di quelli tedeschi o svedesi. Poi invece nel centro-sud i tassi di lettura sono e rimangono bassissimi. E mi viene in mente una cosa. Tempo fa noi pubblicamo un libro di un sociologo economista, presidente della fondazione con il sud, che si chiama Carlo Borgomeo. Borgomeo, quel libro che si chiamava L'equivoco del sud, sviluppo e coesione sociale, diceva che quello che manca veramente al sud non è il PIL, non è tanto il reddito in quanto tale, ma la coesione sociale. Lo metto insieme in un cortocircuito a un altro libro che noi pubblicavamo anni fa, di una persona che tu ben conosci, Antonella Agnoli, che si chiama Le piazze del sapere, in cui diceva che la biblioteca deve essere appunto un luogo di inclusione sociale, non è solo un luogo dove si va a leggere un libro, ma è un luogo in cui si vanno a fare corsi di lingua per gli immigrati, corsi di cucito, si vedono i film, ci si incontra al bar tra i ragazzi, cioè devono essere appunto delle piazze del sapere. Allora, questo è un tema fortissimo, che rinvia esattamente a quello che tu hai detto alla fine del tuo intervento, cioè la consapevolezza del fatto che il libro è un grande fattore di sviluppo. Non è un lusso, non è soltanto un piacere individuale, ma è un fattore trainante dello sviluppo di un paese, particolarmente al sud. Naturalmente è un tema molto spinoso, perché come si riesce a riattivare questo circuito attraverso il libro? Come si riesce a convincere anche la classe dirigente italiana e meridionale di questa connessione così forte tra cultura e sviluppo? È colto il problema, il sud è pieno di iniziative, di gruppi magnifichi che fanno cose bellissime, devo dire, persino più che nel nord come forme di entusiasmo e partecipazione, proprio perché è in contraddizione con uno scenario generale che è molto negativo. Posso solo sottoporti un'impressione che poi quando anche alle classi dirigenti locali proponi, come stiamo facendo con il centro per il libro della lettura, un patto per la lettura, proponi naturalmente anche dei finanziamenti destinati alla città che legge, che possono partecipare a un bando di finanziamento nazionale e per accedere a questo bando devono firmare un patto per la lettura che contiene degli impegni più o meno stringenti nel favorire la rete della cultura, della lettura, nel difendere le biblioteche, anche le librerie. Quando alle classi politiche locali questo lo proponi? Beh, devo dirti, Giuseppe, che sarà retorica, sarà, diciamo, non so se viltà per così dire, incapacità di rifiutare, la risposta è sempre positiva. Le città del sud che si candidano al capitale del libro, la capitale l'anno scorso è stata Vibo Valenza, una città che è nel cuore di una delle regioni che ha più problemi da questo punto di vista, come la Calabria. Le reazioni ci sono, ecco, forse bisogna con pazienza allargare questa attività, paziente sul territorio, con le istituzioni locali, questo bisogna farlo, con tanto sacrificio anche perché i risultati sono lenti e arrivano non certo nel breve periodo. E poi bisogna nel breve periodo sostenere con delle misure, e tu giustamente citavi l'attività del Ministero della Cultura, che mi sembra come tutta quella del governo, nella pandemia, nella crisi, è stata sollecita nel cercare almeno di fronteggiare le difficoltà che c'erano con varie forme di sostegno e di finanziamenti. Dobbiamo forse lavorare su questi due tempi e non pensare che una situazione così profonda del resto del mezzogiorno che stiamo citando sono una parte dell'enorme problema del mezzogiorno italiano, non pensare che mutino nel tempo. Ecco, a me è una cosa che molto dispiace guardare che soprattutto nel mondo della lettura e della cultura, dal sud delle energie migliori tentano ad andarsene. Questo è un fenomeno annoso che è diventato, secondo me, gravissimo, perché è come se mancassero quelle… insomma, uno che vuole impegnarsi nel libro e nella lettura, persino dal punto di vista professionale, è molto frequente che se ne vada dal sud. Sai benissimo quanti bravissimi editori e funzionari editoriali meridionali stanno a Milano. Certo, Milano è la capitale dell'editoria ed è naturale che attragga questi. Ecco, una cosa su cui bisognerebbe lavorare è forse cercare di offrire occasioni, non tanto per rimanere al sud come una forma di obbligo, di prigionia, quanto per fare in modo che nel sud nascano occasioni che a queste energie, a questi ingegni personali, a queste qualità, a questi talenti, offrano la possibilità di esprimersi. Se dovessimo chiedere qualcosa, al di là delle politiche quotidiane, al di là del lavoro più lungo periodo, io chiederei questo, lavorerei su questo, creare occasioni che lasciano al sud le sue energie migliori, perché solo grazie a queste figure, sappiamo quando sono importanti anche singole figure, in certe realtà solo grazie a questa attività può rovesciare il destino che appare sempre segnato. Ecco, vorrei farti un'ultimissima domanda proprio su questo punto, cioè ti vorrei chiedere una riflessione sulla possibilità di realizzare quello che tu hai detto anche mettendo insieme il nord e il sud. C'è una piccola esempio che viene dalla nostra città, dalla città di origine della casa editrice che è Bari, l'anno scorso a Bari si è fatto una manifestazione chiamata Lungomare di Libri, come sai, che prendeva spunto da un'altra manifestazione che si chiama Portici di Carta, fatta sotto i Portici di Torino, e il libraio che insieme agli altri ha organizzato questo Portici di Carta, che ha avuto un successo straordinario a Torino negli anni, quindi tantissima gente, sono stati venduti libri, si è diffuso, Rocco Pinto, che tu ben conosci, che lavora anche al Forum del Libro, che fa tante iniziative, è andato a Bari e ha dato un aiuto al Comune di Bari a organizzare Lungomare di Libri. E' un caso in cui uno spunto nato a Torino si è declinata, naturalmente a Bari non ci sono i Portici, ma c'è il Lungomare, si è declinata, come dire, secondo la città. Ecco, è uno spunto che può darci qualche riflessione su altre cose che si possono fare del genere? Beh sì, innanzitutto siamo una nazione, se Dio vuole, per fortuna e quindi le esperienze transitano da una regione all'altra. No, è una cosa che mi sta molto a cuore, l'iniziativa specifica, il lavoro di Rocco Pinto e di altri librai coraggiosissimi che insomma vedono il loro lavoro, giustamente come un'impresa economica, ma anche con la dimensione civile che una libreria, soprattutto in certe situazioni, non può non avere. E certo, questi sono gli esempi che ci servono. Per esempio al Sud bisogna costruire, secondo me, una grande fiera del libro, Giuseppe, bisogna che gli editori, le istituzioni come il Centro per il Libro, il Ministero, le istituzioni locali si mettano in collaborazione, scelgano un luogo del Sud e questo naturalmente implicherà forse discussioni e persino divisioni e lavorino perché lì nasca una di queste due, tre grandi fiere del libro nazionale che noi abbiamo, c'è più libri, più libri a Roma, c'è il Salone Libro di Torino, poi ce ne sono altre minori, bisogna creare una grande al Sud perché intorno a questi eventi si addensano energie. Io ci tengo molto al tema della speranza per i ragazzi del Sud. Costruire qualcosa al Sud significa dare speranza, ripeto, non per obbligarli a rimanere là, ma per far sì che loro diventino protagonisti di questa trasformazione del Medione d'Italia, di questa indicazione di un futuro possibile. Questo futuro passa attraverso la politica, passa attraverso l'economia, passa attraverso il lavoro, passa attraverso la dignità, passa sempre attraverso la cultura e il libro e non lo diciamo perché siamo apostoli di questa religione, quindi sospetti di pregiudizio favorevole, ma perché ce lo dicono un'infinità di dati economici, un'infinità di dati sul benessere, tu hai accenato al lavoro del forum del libro che ne hai raccolti molti, hai citato un'inchiesta dell'Istat, una ricerca dell'Istat, quella sul benessere, anch'essa interessante da questo punto di vista. Noi sappiamo che senza libri non si costruisce una società civile, colta e anche ricca, nel senso più ampio della parola. Naturalmente è qualcosa di difficile perché c'è un processo di lungo periodo complicato e poi perché emergenze come quelle che stiamo vivendo complicano la situazione, però io la vedo anche come una grande occasione. Giuseppe, ce la vedo, vedo quello che sta accadendo ora come un trauma, una cosa terribile, un insieme di traumi che oscurano la nostra vita, generano lutti, angoscia, dolore, però generano anche una richiesta di evasione e di introspezione, due sentimenti diversi, sono però quelli di cui è fatta la lettura, che è qualcosa che ci mette in contatto col mondo, ci consente di conoscerlo meglio e ci consente di conoscere meglio noi stessi. È una grande occasione, è il fatto che appunto con tante difficoltà e contraddizioni per tornare all'inizio, la lettura abbia resistito come attività degli italiani e in questi anni ci dà un elemento di speranza e soprattutto ci conferma che questa è la chiave, pensare al libro come qualcosa che non può mancare all'esperienza di formazione del sé, della propria personalità e della socialità e della collettività. Io penso che con modestia, con umiltà, ma anche con la consapevolezza piena di questa importanza noi possiamo proseguire nelle cose che stiamo facendo, che non abbiamo intenzione di abbandonare e essere aperti a degli elementi di novità che ci consentano di intervenire su una situazione che è davvero del tutto nuova e manifesterà i suoi cambiamenti ancora, ancora, ancora nei mesi, negli anni a seguire. Bene, allora tu hai usato due parole, evasione e introspezione, per la lettura, ne aggiungerei una terza che tu hai usato proprio, mi ricordo, mi colpì in un incontro dei presidi libri in Puglia che è immaginazione. Quando dicesti Anna Karenina la possiamo vedere al cinema, Harry Potter, ma quando la leggiamo ce la immaginiamo come vogliamo noi e questa immaginazione vale anche per la saggistica perché non si immagina soltanto un personaggio ma si può immaginare una società nuova, si può immaginare un diverso futuro e la lettura è un lievito. Abbiamo affrontato, toccato tanti temi, forse in maniera rapida ma credo, spero non banale. Alcuni non li abbiamo affrontati, per esempio, quello della cosa che stiamo facendo di cui tu sei stato un precursore, i podcast che sono una forma di lettura, come dire, anomala, diversa, ma complementare credo. Ci torneremo magari un'altra volta insieme se ti va. Abbiamo detto una cosa importante e cioè che la comunità del libro si ritrova negli ultimi anni in tutta la filiera. Abbiamo citato i social, abbiamo citato le biblioteche, la scuola, i librai da ultimo. Fammi, consentimi di dire, anche gli editori hanno acquisito negli ultimi anni una consapevolezza nuova. L'associazione editori si è impegnata nella promozione della lettura negli ultimi anni più di quanto non facesse in passato. Gli editori singolarmente lo fanno. Credo che, diciamo così, abbiamo denominato un quadro molto difficile ma come tutte le cose in questo paese che ha tante contraddizioni, anche con grandi qualità, con iniziative di valore, con gruppi di persone dappertutto nel nord e sud, neanche nei piccolissimi centri, oltre che le grandi città, che hanno grande passione per quello che fanno e che vedono nel libro un modo per alimentare queste passioni e soprattutto condividerle. Credo che la persona migliore per fare questo raggiamento sei tu, perché, insomma, da una vita la tua passione la trasmetti in maniera chiarissima e quindi ti ringrazio molto e spero che potremo rincontrarci e tornare a parlarne. Grazie, grazie a voi. Sì, abbiamo appena cominciato. Grazie. Avete ascoltato Radar, un podcast degli editori La Terza. Post produzione e musica a cura di Matteo Portelli. Grazie a tutti.